Pescara tira un sospiro di sollievo per il caso Plus Valenza è stato contestato solo il comma 1 dell'articolo 31 e non il temutissimo comma 2. Evitata dunque la retrocessione, l'ultimo posto l'esclusione dal campionato vero. Le ipotesi peggiori, codice alla mano, dovrebbe essere scongiurata anche la penalizzazione, condizionale quanto mai di rigore, per la vicenda legata al Chievo, penalizzato di 3 punti 4 anni fa a fronte di una richiesta di 15 da parte della Procura federale per violazione del comma 1, lo stesso appunto contestato al Pescara. Il club biancazzurro in sede di battimentale punterà al proscioglimento secco. Sul campo la stagione resta deludente ma c'è ancora modo di darle un senso, conquistando almeno il terzo posto sarebbe il minimo sindacale. L'imperativo è vincerle tutte, sperando che sia sufficiente. Scontro diretto Cesena-Intella, terza contro quarta e appunto Lucchese-Pescara, Auteri. Questa partita da dentro fuori, quindi voglio dire il pareggio che non serve a nessuno. Quella punizione se mi metto io da solo con tutti i miei limiti, la mia età, sul limite dell'area di rigore non prendo gol, a volte sono anche delle fatalità. Ci siamo inchiazzati tanto per prendere un gol così stupido, perché voglio dire, ma quando si prende un gol a difesa schierata, con una punizione buttata lì a casaccio da metà campo. In realtà Catanese con il mancino cerca proprio la testa di Baccaiocco, che per inciso le ha prese tutte, ma ormai il match con il Pontedera fa parte del passato. Nelle ultime due giornate la frenata dei biancazzurri è stata evidente. Indisponibili Drudi, Chiarella, Blanute e lo squalificato Pompetti. Rientrano Sorrentino e Ingrosso, sarà rilanciato Rauti. Dubbio Giambo-Mimushai, qualche chance in più dall'inizio per il franco seneghelese, che non gioca titolare per motivi fisici, dallo scorso 17 febbraio. 0-0 all'Adriatico con Lentella. Il probabile 11 Sorrentino, tre pali, Zappella, Giannes, Ingrosso e Veroli in difesa. A centrocappo Giambo, Pompetti e Puntisso, davanti Clemenza e Rauti a supporto di Ferrari. Lucchese virtualmente salva, con buone possibilità di centrare i play-off. Stadio Porta Elisa particolarmente in fido alle big del Girone B. Un solo KO con Cesena, ma nella giornata inaugurale. Successi contro Entella e Reggiana, pari contro Modena e Ancona. Fuori gli infortunati Semprini, Fedato, Papini, Rodriguez e Ricchi. Sistema di gioco 4-3-2-1. Il probabile 11 Coletta, tre pali, in difesa Corsinelli, Bacchini, Bellic e Nennini. A centrocampo Collodel, Minala e Picchi. Tra le linee Ruggero e Belloni, ovvero il giocatore più tecnico, a ridosso di Nanni. Loro sono squadra che corre tanto, squadra composta da giocatori che hanno fame, che si vogliono affermare. Squadra organizzata dal punto di vista tattico, che ha gioco corale e aggressione. Squadra che cerca i ritmi, vanno pochi punti di riferimento e sono organizzati. Ma è partita che noi andremo a giocare per vincere. Sarà il dodicesimo precedente a Lucca, il primo nella stagione 1933-34, vittoria dei Toscani per la 3-1, l'ultimo in Cina nel 2007 2-1. Micco illude l'undici di Franco Lerda, raggiunto e superato da Masini, autore di una doppietta. Nel campionato 51-52, ultimo in Serie A della lucchese, c'era anche il mitico Mario Tontodonati, ex Bari, Roma e Torino, il cannoniere più prolifico nella storia del Delfino, con ben 120 gol. Tre i successi del Pescara a Lucca, nelle immagini. 8 settembre 1991, Serie B. I biancazzurri di Galeone si pongono 1-0. Gol partita, firmato da Bibi, splendidamente assistito da Max Allegri. 15 ottobre 1995, sempre di misura, il Pescara di Franco Oddo e Spugna, il Porta Elisa. Baldi si mette in proprio, arma il destro, Scalabrelli respinge corto, rapinoso il guizzo di Andrea Carnevale. 15 marzo 1998, dominio assoluto, travolta la lucchese di Gigi Decagno. 0-3, protagonista indiscusso, Ivan Tisci, traversa e due assist, il primo delizioso. Un autentico ricamo per l'1-0 di Moretti, quindi la doppietta di Fabrizio Cammarata. Non solo, rigore fallito da Giovanni Pisano e altro legno timbrato da Gigi Beghetto. Era il Pescara di Adriano Buffoni, subentrato a Maurizio Viscidi.